Capitolo 14. Iride mi dà un bastone. Immaginate il mio entusiasmo. Raccontammo alla dea le nostre avventure fino a quel momento. Glielo devo riconoscere. Iride era una brava ascoltatrice. Gli dei tendono a spazientirsi molto velocemente con i problemi dei mortali, ma presumo che, essendo lei una messaggera, abbia dovuto imparare a prestare attenzione a ciò che dicono le persone. Quando accennai al calice perduto di Ganymede fece una smorfia, quasi avesse una scheggia di cristallo piantata in un punto imbarazzante. E quando le raccontammo l'avventura alle betudine, chiuse gli occhi e sospirò come a intendere, Dei, concedetemi la pazienza. Solo che lei era una dea e non credo che pregare se stessi funzioni. Ovviamente non pensiamo che sia stata tua a prendere il calice, conclose Annabeth. Sarebbe sciocco. Però se effettivamente lo hai preso tu, ci piacerebbe riaverlo, se ne uscì Grover. Annabeth lo fulminò con lo sguardo, ma lui non sembrò accorgersene. Emanava un bagliore fotogenico, come se fosse invulnerabile ora che era diventato il modello per i ritratti di Blanche. Ma è ovvio che non l'hai preso tu, intervenni. Vero? Non intendevo aggiungere il punto di domanda, mi sfuggì involontariamente. Iri decontrasse le labbra, fece scorrere le dita sui ciondoli di cristallo esposti, inviando nuove esplosioni di luce colorata per tutto il mercato. Ebbi la spiacevole sensazione che con un solo pensiero potesse trasformare tutti quei fasci di luce in laser e ridurci in carne trita di semidio. Hai idea di quanto sia ingrato il lavoro di un coppiere? Ribatté. Ripensai a Ganimede che camminava ossessivamente per la mensa della scuola a raboccare tazze e lattine con la bevanda olimpica numero 5. In effetti non sembra divertente, ammisi. No, Percy Jackson, non lo è. Questo fu il primo indizio che si ricordava di me, o almeno sapeva il mio nome. La notizia non mi fece sentire per niente più al sicuro. Quindi non è una cosa che ti piacerebbe riavere, osservai. Nemmeno per far arrabbiare Ganimede, per esempio. Stavolta riuscii a non farla sembrare una domanda. Ma Iride pareva ancora irritata. Niente è più inquietante di una nonna hippie che all'improvviso ti guarda male. Io non faccio arrabbiare nessuno, precisò. Anzi, per quel giovane dio provo solo compassione, poveretto. Rapito da Zeus soltanto perché era attraente, usato come immortale addobbo per i parti e costretto a sopportare le occhiate storte di Hera e degli altri, perché Zeus stravede per lui? No. Troppi giovani e fanciulle sono stati vittime di Zeus e di tutte le altre simpatiche divinità che fanno impunemente quello che vogliono. È vergognoso. Guardai i miei amici. Va da sé che eravamo d'accordo con Iride, ma sentire una divinità esprimere un pensiero del genere a voce alta fu una sorpresa. Era il tipo di opinione che Zeus avrebbe censurato con un fulmine dritto in faccia. Vedo che siamo venuti nel posto giusto, si congratulò Annabeth. Sei perspicace, gentile, saggia, tutto quello di cui abbiamo bisogno per trovare il nostro ladro di coppe. Il tuo consiglio è prezioso come un arcobaleno. Iridea bozzò un sorrisetto. Guarda che ho capito cosa stai facendo. Stai cercando di lusingarmi. Il commento sull'arcobaleno era eccessivo, amicò Annabeth. Assolutamente esagerato. Iride fece frullare le dita per dire vai avanti. La tua guida è proprio quello che ci servirebbe, continuò Annabeth. Tu conosci gli dèi. Sai chi ce l'ha con Ganimede. Chi pensi che abbia preso il calice? Iride lasciò passare un momento, riflettendo in silenzio. Altro tratto inconsueto per una divinità. Di solito gli dèi presumono di sapere tutto e lo gridano subito ai quattroventi. Un'idea ce l'avrei, disse poi, ma ho bisogno di analizzarla con la dovuta discrezione. Certo, fece Grover rilassando le spalle. Fantastico, grazie. Oh, e le informazioni non saranno gratuite, aggiunse Iride. Mi morsi la lingua per inghiottire un ti pareva? Non perché non voglia aiutarvi, proseguì lei evidentemente leggendo la mia espressione. So che pensate che noi divinità non riusciamo a trattenerci dal darvi piccole commissioni. E avete ragione. Vi presentate alla nostra porta e d'un tratto ci vengono in mente almeno una decina di voci che ci piacerebbe spuntare dalla nostra lista di cose da fare. Ma non si tratta solo di questo. La conoscenza ha un valore, indovinò Annabeth. Più è alto, più bisogna guadagnarsela. Iride le indirizzò un sorriso raggiante. Parli da vera figlia di Atena e un incarico vi darà anche qualcosa da fare mentre io indago sulla mia intuizione. Non sottolineai che da fare ne avevamo già parecchio. Sospettavo che gli dèi, anche quelli simpatici come Iride, presumessero che i semi dèi stessero in uno sgabuzzino da qualche parte, disattivati e coperti da teli antipolvere, fino a quando non si fosse reso necessario svolgere una missione. Non vi preoccupate, ci rassicurò. La mia, di impresa, non dovrebbe richiedere molto tempo. E avete ancora quindici giorni prima che l'onta di Ganymede finisca sulla pubblica piazza. Grover sussultò. Perché quindici giorni? È quando Zeus ha programmato il prossimo banchetto. Iride prese atto delle nostre espressioni vacue, poi sospirò. Ma certo, Zeus non si è preoccupato di dirlo a Ganymede, vero? Si rivolse ad Annabeth. È l'Epulm Minerve, l'antica celebrazione romana per tua madre. Zeus ha deciso di organizzarle una festa, presumibilmente perché vuole qualcosa da lei. Una nuova invenzione, una guerra, una varietà di olive senza nocciolo. Chissà, se il calice non verrà ritrovato entro quella data, tutti gli dèi capiranno che Ganymede lo ha perso. Zeus griderà lo scandalo e Ganymede probabilmente non sarà più tra noi. Il labbro inferiore di Grover tremò. L'espressione raggiante da scatto in posa era svanita. Cosa vuoi che facciamo? Iride sorrise. Questo è lo spirito giusto. Si voltò e iniziò a liberare dai pendenti di cristallo un supporto in fondo alla bancarella. Mentre toglieva le collane, mi resi conto che il sostegno dell'espositore non era un semplice palo. Era un bastone di legno delle dimensioni di un manico di scopa, con una sorta di raffinata decorazione metallica a un'estremità. Iride lo sollevò e lo posò sul ripiano tra noi. Le brillavano gli occhi, come se stessi aspettando di sentire cosa le avremmo offerto al banco dei pegni dell'allegria. Annabeth inspirò bruscamente. È il tuo kerrycaion. Giusto, un kerrycaion, concordai. Stavo per azzardare che significava battipanni in greco, ma non volevo sbagliarmi. Annabeth alzò gli occhi al cielo. È il bastone dei messaggeri persi, come quello di Hermes. Esatto, Iride confermò con una punta di malinconia. Un altro lavoro che ho fatto in passato. Ero la messaggera degli dèi. Studiai il bastone. A differenza del caduceo di Hermes, non aveva serpenti vivi arrotolati intorno, ma osservandolo più da vicino mi resi conto che la piastra di metallo all'estremità era effettivamente composta da una coppia di serpenti dalle minuscole corna. Erano arrotolati a formare un otto e si incontravano sulla sommità l'uno di fronte all'altro. Nel corso degli anni il metallo si era ricoperto di sporcizia, quindi era difficile distinguere i dettagli. Anche il legno era in pessime condizioni, con macchie scure di fuligine e unto. Mi chiesi quando Iride fosse stata la dea messaggera. Forse prima che Hermes nascesse, il che significava... beh, un bel po' di tempo prima. Sembrava che da allora quel bastone fosse stato usato soltanto come attaccapanni per merci in saldo. Mi domandai anche quante volte un dio potesse cambiare lavoro. Iride poteva decidere dall'oggi al domani di diventare la dea delle proteine vegetali? Ares poteva rinunciare alla guerra e diventare il dio del lavoro a maglia? Avrei pagato dracmedo rossonante per vedere una cosa del genere. Percy? La voce di Grover mi riportò al presente. Scusatemi, cosa? Hai sentito, vero? Chiese. Iride ci stava spiegando che la piastra è in bronzo celeste e l'asta è in quercia di Dodona. Capisco. Non avevo idea di cosa fosse una quercia di Dodona, ma non sembrava molto igienica. E la sommità sembrava più sudiciume celeste che bronzo celeste. Quindi dovremmo consegnare un messaggio con questo affare? «Oh no!» ribattei Iride. «Quei giorni me li sono lasciati alle spalle. Nei tempi antichi usavo il bastone per creare meravigliosi arcobaleni mentre volavo in cielo, spostandomi da un luogo all'altro. Mi manca!» sospirò. «Vorrei che gli deste una bella ripulita. Riportatelo al suo antico splendore. Ammetto, avrei dovuto farlo io già da tempo, ma suppongo che...» Beh, ero amareggiata che Hermes mi avesse soffiato il posto. Ripensai a quello che aveva detto poco prima. Non ce l'aveva con Ganimede per aver perso il lavoro di coppiere, mentre perdere quello di messaggera l'aveva amareggiata. Mi chiesi quanto potevamo fidarci di questa simpatica nonnetta arcobaleno. «Non possiamo semplicemente usare uno sgrassatore, vero?» azzardai. «O portarlo in una lavanderia a secco?» «Ovviamente no», confermò lei. «Può essere lavato solo nel fiume Ilisso». Annabeth batte le palpebre. «Questo mi manca». «Io lo conosco», intervenne Grover, e non ne sembrava entusiasta. «In passato l'Ilisso era famoso per le sue magiche acque cristalline. In teoria poteva pulire qualsiasi cosa, non importa quanto sporca fosse, e alcune creature ne hanno approfittato». «Esatto», concordò Iride. «A volte ci fanno il bagno le furie. L'acqua dell'Ilisso è l'unica in grado di lavare via il fetore degli inferi quando devono muoversi tra i mortali». Brabrividì, pensando alla mia ex insegnante di matematica, la signora Dotz, altrimenti nota come Aletto, una delle furie. L'immagine di lei che faceva il bagno in un fiume prima di farci lezione di pre-algebra non mi piacque per niente». «Anche altri mostri», aggiunse Grover, dando un'occhiata alla sinuosa estremità del bastone. «Come serpenti cornuti». «Già, molto bene, giovane Satiro», lo lodò Iride. «In effetti dovete purificare il mio bastone proprio nel fiume dove i serpenti hanno fatto il bagno». «E questi serpenti sono gentili e amichevoli», buttai lì. Iride sussultò. «Oh no, cercheranno di uccidervi». Come Ebe sembrava immune al sarcasmo. «Ma attenti, non dovete fare loro del male». «Perché sono animali a te sacri?» «Niente affatto. Voglio solo che questa impresa sia cruelty free. Dovete trovare un modo per portare a termine l'incarico senza fare del male a nessuna creatura del fiume». «Buona fortuna, semidei. Ora devo tornare ai miei doveri». Un gruppo di clienti si era avvicinato al banco e aveva cominciato a fare dei gran «uh» e «ah» davanti ai suoi cristalli. Eravamo congedati. Afferrai il bastone dell'arcobaleno baluginante di sporcizia che non si ridusse opportunamente a una misura più piccola. Nel riattraversare il mercato mi sentii un maghetto da quattro soldi. «Cruelty free», brontolò Annabeth. «Direi che non contempla la crudeltà verso i semidei». «Lo scopriremo», disse Grover che era sorprendentemente tornato allegro. «Ho sempre desiderato vedere il fiume Ilisso. C'è solo un problema». «Oltre ai mostri che non possiamo uccidere?» lo stuzzicai. Grover agitò la mano come a liquidare la battuta. «Il vero fiume Ilisso in Grecia non esiste più. Quello del mito potrebbe essere ovunque. Io sapevo che il dio del fiume era così disgustato da tutti i mostri che facevano il bagno nelle sue acque che lo nascose, così che fosse pressoché impossibile trovarlo. Eiride non ci ha detto dov'è». «Ci direbbe senz'altro che dobbiamo trovarcelo da soli», tirai a indovinare. «Perché la conoscenza è preziosa, bla bla». Annabeth mi diede una gomitata nelle costole. «Quello che ci serve è uno spirito acquatico di livello superiore che ci dia indicazioni. Nereidi e Nayadi si conoscono tutte. Mi chiedo dove potremmo trovare una Nereide a cui domandare». Mi lanciò ha avuto un sguardo.